Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, per tutti quelli che sono interessati a Solidity, che hanno visto i miei video, le mie condivisioni, chi mi segue lo sa, da circa 14 giorni, 15 giorni, sto copiando Solidity, ovvero mi sono agganciato a questa strategia di copy trading Forex. Per la prima volta un copy trading stabile, a lungo termine, dove ti dimentichi, ti puoi dimenticare dei tuoi soldi e li vedi crescere, almeno in 15 giorni, dove c'è in modo trasparente chi l'ha fondato, il trader, andatevi a vedere i video in questo canale, ne ho parlato, è uscito il video stamattina con i fondatori, abbiamo analizzato i portafogli dei clienti, da 17 mesi in profitto, più di 10 milioni agganciati, privati cittadini, fondi di investimento, un progetto veramente che sta portando a guadagnare chi è collegato, quel 2-3% al mese, netto per il cliente, che è veramente un qualcosa di incredibile ed è stabile, ed è stato pensato per il lungo termine, anche io sto guadagnando in questo canale, l'ho condiviso, se siete interessati a vedere i miei guadagni quotidiani, a parlare, fare domande con i fondatori, ho creato un gruppo Telegram, si chiama Maracopy Forex, vi lascio il link in descrizione, entrate, lì c'è anche tutte le varie sezioni in cui potete fare domande, ci sono i membri del team, c'è la sezione guida al copy trading, dove ci sono le istruzioni per agganciarvi, ci sono i risultati dei vari conti collegati, e poi nella chat quotidianamente metto i miei risultati e quindi potete ogni giorno vedere come si sviluppa questo progetto, ho anche creato un sito solidity.michelemarellino.com dove è praticamente riassunto tutto questo, trovate tutto in un unico sito, con tutti i video tutorial che ho fatto e anche le mie considerazioni su come sfruttare solidity per fare un pick, per fare un pack, e bomba. Adesso però, direttamente dalla presentazione che c'è stata ieri, se entrate nel gruppo Telegram, ho messo il video, la registrazione della presentazione con i fondatori Luigi e Cristian, di un'ora, ieri chi ha partecipato ha potuto fare domande, è stata bellissima, guardatevi quella videoregistrazione, la trovate nel gruppo Telegram, Maracopyforex, ti lascio il link in descrizione, è il secondo link, entrate, potete anche fare domande, se avete dubbi, direttamente in chat, comunque poi sicuramente ne faremo altre, ma vedetevi la registrazione di ieri perché è bellissima, la trovate nel gruppo Telegram, link in descrizione. Da quella presentazione ho estratto una parte già stamattina, adesso in questo video vediamo proprio la storia di Solidity, come è nata, come Cristian, però ci sta, lo storytelling è importante anche quando si propone un progetto, come Cristian ha conosciuto Luigi, Cristian promoter, diciamo, nel mondo del trading, del copy trading, incontra Luigi, dopo aver, vi faccio un riassunto, poi vi lascio alla storia raccontata da Cristian, che è molto bella, dopo un anno a cercare dei trader, ha trovato Luigi, un ragazzo all'epoca aveva 18 anni, ora ne ha 21, uno che è un periodo informatico ed è praticamente un trader, ha fatto il fraccello, il positivo a livello di stabilità su BitGet anche i primi mesi, sulle cripto adesso si è buttato sul Forex perché è più, diciamo, stabile ed è correlato anche dalle notizie, una bomba, si conoscono, lui ha un, diciamo, opera a livello, è un promoter nel settore del trading, si unisce con Luigi e creano Solidity, e racconta questa storia, vi racconta anche perché hanno scelto come broker FP Markets, come funziona, tutti i vantaggi, tutte le garanzie che ti dà, le licenze che ha anche della Consob in Italia, vi spiega tutto e anche i rendimenti della strategia, come funziona, perché è stata pensata in questo modo, perché è a lungo termine, perché è stabile, guardatevi questa storia su Solidity, se siete interessati, su come è nata, su come funziona e anche tutti i dettagli sul broker, e guardatele, poi in descrizione avete i link, entrate nel gruppo Telegram e anche trovate tutte le informazioni su solidity.michelemaralino.com per agganciarvi e gli altri video che ho fatti, ve li metto anche qui nelle schede e anche in descrizione, buona visione con la storia di Solidity. Io vi presento, sono Cristian, ormai faccio business online da sette anni, ho fatto tantissimi tipi di attività diverse all'interno di questo settore, e poi diciamo che andando avanti nel tempo, quello che ho sempre ricercato è stato sempre di più uno scollegare il mio tempo dalla retribuzione, che è una cosa chiaramente a cui molte persone ambiscono nella ricerca della libertà finanziaria, perché ci sono tantissimi modi per poter monetizzare il proprio tempo, ma è molto difficile trovare un qualcosa che ci faccia monetizzare in modo scollegato dal tempo. E quindi da qua mi sono avvicinato al settore degli investimenti con questa con questa visione, fino appunto ad arrivare alla conoscenza di quello che era il mondo del trading, il mondo poi del copy trading come modello di business e il settore del forex. Una volta diciamo capito quella che era la mia via, quello che era l'attività che volevo intraprendere all'interno di questo settore, chiaramente ho dovuto fare una sorta di scouting che è durato circa un anno all'interno di questo settore, ho conosciuto tantissime persone, tantissimi trader che si volevano vendere come fantomatici profitti eccetera eccetera, il problema che accomunava tutti questi trader, come penso condividiamo l'esperienza anche con Michele, anche con Alex, è il fatto che poteva andare benissimo per uno, due, tre mesi, performance da paura e poi arrivava il bel giorno che svampava il conto perché con un controtrend si bruciava tutto il capitale. E questa chiaramente è una cosa insostenibile nel lungo periodo perché se si va a fare del profitto anche interessante per un determinato periodo di tempo ma poi si va a perdere tutto il conto, chiaramente non si è portato a casa niente, specialmente se magari si puntava a fare il compound, l'interesse composto che è quello che poi porta specialmente capitali piccoli nel lungo termine ad avere importanti risultati. Quindi quello che sono andato a ricercare a un certo punto era appunto un partner che avesse una stabilità operativa più che una ricerca del super profitto ma soprattutto utilizzasse uno stop loss. Tra tutte le persone che ho conosciuto la persona che si è rivelata la più valida in assoluto che ha dimostrato con i dati e con i risultati nero su bianco appunto è stato Luigi, un ragazzo giovanissimo, quando l'ho conosciuto aveva appena 18 anni e aveva appena conseguito dei risultati importantissimi nel copy trading all'interno del settore cripto. Pensate che all'interno di BitGet è stato per due mesi di fila prima in Italia e per sei mesi di fila prima al mondo come criterio di rischio rendimento. Quindi neanche una ricerca del super profitto ma proprio per la stabilità. Stava addentrandosi all'interno del mondo del forex con la programmazione proprio perché oltre ad essere un trader e anche un periodo tecnico informatico ho studiato questo alle scuole superiori e quindi si stava dedicando allo sviluppo di un software. Andando avanti nel tempo questo software ha iniziato ad avere storico, ha iniziato ad avere tre mesi, sei mesi, un anno di storico e quindi arrivato ad un certo punto chiaramente c'è stata la volontà di entrare in collaborazione in esclusiva dato che la mia professione è quella semplicemente di divulgatore, diciamo, di promoter di servizi all'interno di questo settore quindi abbiamo deciso di entrare in partnership e promuovere questo fantastico servizio che è stato chiamato appunto Solidity proprio per evidenziare quello che è il criterio che c'è dietro la strategia. Appunto non quello di fare il super profitto ma quello di portare una rendita il più stabile possibile a lungo termine in modo da poter far fruttare i propri fondi e sfruttare l'interesse composto sempre tenendo conto di uno stop loss. Lo stop loss nel particolare per la strategia di Solidity è del 30%. Quindi si va a mettere in conto che se si utilizza il rischio standard della nostra strategia perché può essere anche personalizzato volendo, ma il rischio standard che noi ci assumiamo è del 30%. Consideriamo il fatto che la strategia ad oggi è al diciassettesimo mese di storico reale sul broker di FF Markets di cui adesso vi parlo e abbiamo backtest dal 2018. Considerate che dal 2018 ad oggi lo stop loss del 30% non è mai stato preso. Negli ultimi diciassette mesi di storico reale abbiamo avuto un massimo drawdown del 14% e dal 2018 ad oggi il drawdown massimo toccato è stato del 23%. C'è anche un'altra cosa da dire, il fatto che non è solamente una strategia Solidity ma Solidity è un vero e proprio ecosistema dove tra dieci giorni esatti avrete la possibilità di sfruttare non più una sola strategia ma ben due strategie, nel particolare di AudiCAD che è quella che diciamo stiamo già utilizzando tutti che lavora sul dollaro australiano contro il dollaro canadese e dal primo novembre entrerà in gioco anche la strategia di GBPNZD quindi sterlina contro dollaro neozelandese che i promoter hanno già avuto modo di provare e Michele insomma anche oggi ha avuto un interessante profitto come tutti noi all'interno dei nostri conti personali proprio perché è una strategia un pochino più frizzantina che chiude un po' più di operazione e quindi ci dà un po' più di soddisfazione diciamo a livello anche un po' di quello che è la soddisfazione nel vedere il proprio conto crescere ma anche la prima strategia di AudiCAD prendendosi i suoi tempi perché è una strategia diciamo un pochino più swing ci porta a una profittabilità mensile molto molto interessante. Adesso facendo un passo indietro la prima cosa da considerare quando si valuta un servizio di questo tipo è sicuramente la sottostante alla quale si fa riferimento nel nostro caso il broker appunto di FP Markets. FP Markets è un broker che opera nel settore tradizionale quindi tutti gli strumenti finanziari che possono esserci a disposizione tra cui appunto Forex, materie prime, indici, criptovalute ma opera appunto con un modello di business più tradizionale rispetto a quello che possono essere gli exchange crypto. Opera nel settore dal 2005 quindi sono quasi 20 anni di esperienza all'interno di questo settore. Broker pluriregolamentato nel particolare citiamo le regolamentazioni ASIC quindi regolamentazione australiana a livello internazionale dato che è un broker che è proprio nato e ha sede negli headquarters in Australia. Regolamentazione SISEC per poter operare a livello europeo con sede a Cipro. Poi registrazione Bafin per quanto riguarda tutto il territorio tedesco e addirittura la registrazione Consob che pochissimi broker hanno ovvero la registrazione per poter andare ad operare in piena regola anche sul territorio italiano. Noi nel particolare facciamo riferimento alla giurisdizione internazionale semplicemente per poter andare a sfruttare al 100% quello che è il copy trading con la leva che è quella che noi andiamo ad utilizzare che è 1 a 500. Badate bene che è molto diversa dalla leva sulle cripto dove 1 a 500 è una leva folle. In realtà nel trading sul Forex una leva 1 a 500 ci permette semplicemente di aprire lo stesso valore nominale che noi vogliamo andare ad aprire al mercato con un margine molto molto ridotto. Quindi possiamo aprire l'investimento anche a clienti con un capitale molto basso. Difatti per il nostro servizio il capitale minimo sono 500 euro. Servizio completamente gratuito quindi si va come funziona il tutto si fa la registrazione all'interno del broker facendo la prova dei documenti, residenze eccetera si va a fare il deposito. Il deposito può avvenire tramite conto bancario quindi col bonifico, carta oppure criptovaluta. Una volta fatto il deposito ci si va ad agganciare alla strategia in modo totalmente gratuito. E' una cosa molto molto importante è che i fondi sono sempre svincolati quindi come si versa si può anche prelevare in qualsiasi momento e a seconda della modalità di prelievo in 24 barra 48 ore i soldi tornano all'interno del nostro conto di partenza. Quindi un fattore anche molto importante è la liquidità di un investimento. Tante volte magari vediamo qualcosa che può sembrare interessante poi se andiamo invece a vedere le condizioni magari il nostro capitale deve stare bloccato per un minimo di 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi o in alcuni casi magari in situazioni assicurative anche per degli anni, per dei rendimenti che poi bisogna andare anche a discuterne. Ma al di il rendimento una cosa molto importante appunto è la liquidità di questo investimento. Ora quando andiamo a fare trading a mercato sul Forex ci sono principalmente due tipologie di broker. Il broker market maker e il broker ECN. Noi abbiamo scelto FQ Markets proprio perché è uno dei pochissimi broker a essere 100% ECN. Cosa significa? Un broker market maker è un broker che fa da controparte diretta ai propri clienti. Questo vuol dire che se un cliente perde il broker guadagna e se un cliente guadagna il broker perde. Capite bene che una collaborazione profittevole per entrambe le parti a lungo termine non esiste in questo caso perché c'è un fortissimo complitto di interessi perché la vita di uno, passatemi il termine, dipende dalla morte dell'altro. E quindi quello che a noi ci serviva essendo la strategia con l'ottica di essere profittevole nel lungo periodo era un broker ECN, ovvero un broker che non fa da controparte ai propri clienti, ma un broker che semplicemente trasferisce gli ordini dei clienti sul mercato reale ai propri liquidity provider. Quindi si affida a delle istituzioni finanziarie, delle banche esterne che forniscono la liquidità di controparte ai clienti eliminando così totalmente il conflitto di interessi e avendo la possibilità di offrire ai clienti anche delle condizioni di trading veramente fantastiche a livello di commissioni, spread eccetera eccetera. Nel particolare i liquidity provider che forniscono la liquidità ai clienti di FP Markets sono JP Morgan, Goldman Sachs, BNB Paripa, Berkley's, Royal Bank of Scotland e altre istituzioni finanziarie. Quindi capite bene che c'è un'enorme liquidità e questo ci permette di eliminare tutte quelle situazioni spiacevoli che possono succedere al mercato che ci sono successe in determinate occasioni ma sono poi state sempre risolte da parte di FP Markets proprio perché la execution degli ordini ovvero l'esecuzione a mercato è una priorità assoluta per il modello di business di FP Markets e quindi siamo certi che nonostante il volume molto importante di denaro che ad oggi è collegato a Solidity perché considerate che ad oggi a Solidity ci sono collegati oltre 10 milioni di euro quindi delle somme importanti ma nonostante questo quando noi andiamo ad entrare e a uscire dal mercato le persone entrano e escano esattamente dove usciamo noi al netto di quello che chiaramente è la liquidità disponibile in quel momento al mercato ma che non infiscia in nessun modo il rendimento su base mensile o annuale del cliente rispetto al nostro conto master. Quindi il modello di business semplicissimo la sottostante è FP Markets broker pluriregolamentato si fa il deposito si collega alla strategia si replica in modo totalmente identico quello che sono le operazioni che noi andiamo ad effettuare sui nostri conti personali tramite i software sviluppati da Luigi cliente al capitale sempre svincolato in qualsiasi momento può ritirare il capitale averlo disponibile in 24-48 ore. Ora capito questo dove andiamo noi a guadagnare? Noi andiamo a guadagnare sul 50% del profitto che effettua il cliente quindi se il cliente effettua 10 euro di profitto lordo vuol dire che 5 euro li paga di commissioni poi di queste commissioni un 40% viene ripartito al piano di marketing che è il nostro modo per semplicemente farci pubblicità ed espandere il servizio quindi volendo c'è anche la possibilità di guadagnare da la propria attività all'interno del servizio per aumentare la propria rendita ma non è una cosa obbligatoria il servizio non si basa su questo questa è una nostra tecnica diciamo di marketing ed espansione del progetto ma il business si basa solo ed esclusivamente su quello che è l'investimento del cliente anche perché i numeri parlano chiaro si va a prelevare un 50% di quel 50% il 40% viene ripartito questo vuol dire appunto che non c'è nessun soldo che spunta fuori dal nulla come in altri progetti ma è tutto totalmente legittimo e trasparente una cosa importante è che questo 50% si viene a togliere solamente in caso di profitto netto quindi se il cliente ha una perdita che ricordiamo può essere massimo del 30% con l'esposizione standard non vengono prelevate commissioni fin quando non viene recuperata totalmente quella perdita quindi viene eliminato anche da parte nostra, da parte dell'emittente del servizio totalmente il conflitto di interessi perché il broker guadagna semplicemente dalle transazioni aperte e chiuse dai clienti noi andiamo a guadagnare solamente se il cliente guadagna quindi le tre parti ovvero cliente, emittente del servizio che siamo noi e il broker andiamo a guadagnare tutti nello stesso modo sostanzialmente e quindi è nostro interesse far sì che il servizio duri e sia il più stabile possibile nel tempo adesso chiarito un po' quello che è tutto il modello di business a 360 gradi andiamo ad approfondire un po' quello che è nel vivo la strategia di Solidity Solidity lavora appunto nel settore del forex quindi nel settore delle valute tradizionali un po' come euro, dollaro eccetera eccetera ma la selezione dei pair è stata volta a AudiCAD quindi dollaro strano contro dollaro vanadese e GBPNZD, sterlina contro dollaro vanadese che è la strategia che entrerà in gioco il primo di novembre questo proprio per la tipologia di movimenti che vanno a fare questi pair il peso del pip molto basso ovvero il singolo movimento sulla coppia pesa molto poco il che consente di essere conservativi e longevi al mercato e dall'altra parte abbiamo una terza strategia che è su euro CHF, quindi euro contro franco svizzero che è in fase di sviluppo e verrà messa in atto nel 2025 queste strategie possono essere utilizzate sullo stesso conto di trading oppure su conti trading separati a piacimento del cliente considerate che il rendimento netto medio mensile di AudiCAD più GBPNZD messi insieme per stare proprio conservativi, per stare bassi si attesta più o meno circa su un 3% netto mensile può essere un po' di più, può essere un po' di meno dipende chiaramente da quello che poi è il mercato noi non possiamo comandare il rendimento non è niente di garantito fisso ovviamente essendo sui mercati reali ma chiaramente questi sono i risultati che dal 2018 ad oggi mediamente abbiamo riscontrato utilizzando queste strategie grazie Grazie a tutti.